buongiorno a tutti oggi voglio farvi vedere alcuni dei nostri filati sono filati polo nord li trovate sul nostro sito autolette del gomitolo punto com questo è un baby antracite baby alpaca 1765 perri 4 uncinetto 3,5 poi pura lana 100 per cento lano orchidea 1651 perri 5 uncinetto 4 poi abbiamo merinos cabernet 1260 perri 5 uncinetto 4 abbiamo un misto lana misto lana con la me 22 acrilico 75 l'anno 22 acrilico 3 poliestere peltro brillante 1819 ecco così si vede meglio poi celeste brillante con la me perri 5 uncinetto 4 merinos ottagno 1793 ferri 667 uncinetto 6 ecco 100 per cento lana sabbia chiaro 1.650 così si vede bene stampato 1725 ferri 4 uncinetto 3,5 ecco poi di nuovo stampato 1726 queste stampate sono 75 lana 25 acrilico colori colori con un altro stampato 1728 ferri 4 uncinetto 3,5 poi abbiamo neanche trafina clorofilla 1679 100 per cento lana poi abbiamo un rosso corso merinos merinos ecco trafina acqua 1689 carri 5 uncinetto 4 Baby alpaca nocciola 1769 merino spanna 1711 sono pilati morbidissimi quelli questi poi abbiamo questi bucre 90 alpaca 10 pulamide questo è un panna un altro blu che viola chiaro alpaca poliamide viola chiaro 1831 poi voglio farvi vedere questi questa fantasia che è in stock con le piccole paillettes come si presenta ecco poi abbiamo un altro stock polamide per lo tecnico 1828 poi abbiamo dalla seta 100% seta questo è il color crema 1580 ferri 3,5 uncinetto 3 un altro 100% seta savana 1578 questi e altri pilati li potete trovare sul nostro sito www.outonetdelgomitoro.com